Buongiorno a tutti, oggi vi parlerò di un vino rosato del Salento, un vino prodotto per l'annata 2018, quindi l'ultima vendemmia qui del Salento, annata davvero eccezionale, tutti i produttori che io ho sentito in questi giorni mi hanno confermato che il 2018 sarà davvero una delle migliori annate negli ultimi anni, nell'ultimo ventennio, annata eccezionale quindi per i vini rosati ricordatevelo e assaggiate i vini rosati del Salento prodotti nell'anno 2018 perché sono davvero tutti eccezionali. Ora parliamo invece di questo rosato, ero oggi in cantina e non vi svelerò subito il nome della cantina e questo è un rosato eccezionale, uno tra i miei preferiti, è un rosato molto 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 equilibrato ed elegante, è un rosato da Negramaro, è un rosato che viene prodotto nella zona di copertino ed è una doc, vi ho detto praticamente tutto. Guardate il colore, il colore è meraviglioso, è un colore corallo con riflessi arancio, tipico del Negramaro, è un vino che ha nella sua freschezza, acidità e nella sua eleganza il suo punto di forza e dovete assaggiarlo perché è veramente strepitoso. Ora non vi faccio perdere altro tempo, eccolo qua, è tenuta paraida, è uno dei rosati migliori del Salento, è prodotto dall'azienda Vitivinicola Marulli, dal mio amico Vito e ve lo consiglio. Potete in questo caso qui apprezzare, visto che questa è la bottiglia del 2017, tra l'altro vino che ha vinto dei premi molto 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 importanti in Francia, apprezzate la differenza del colore tra le due bottiglie. Ovviamente una è l'annata corrente 2018, quest'altra 2017 ha fatto un anno in bottiglia, quindi la colorazione tende a essere un po' più scura, lo vedete da qui. Non so se si apprezza la differenza di colorazione. E un saluto dal Salento, bevete i vini rosati del Salento, sono davvero davvero eccezionali, abbiamo in anteprima per voi questo grandissimo rosato, erano in etichettatura praticamente oggi, quindi a breve saranno a disposizione di chiunque vorrà assaggiare questi meravigliosi vini. Vi auguro una buona giornata, a presto!